Una vera novità per l'Italia. La prima trasmissione in molte conduzione. Molti ospiti, anche alcuni volti noti. Ma soprattutto, la prima trasmissione veramente libera, perché nata sulla rete, fatta da gente comune per la gente comune. Questa è Salvo 5.0 Ciande. Salvo Mandara e tutto lo staff dell'S 5.0 presentano l'informazione dipendente del Salvo 5.0 Ciande. Mercoledì, ore 21.30. In diretta, dal canale di Salvo Mandara, su La Fornace TV. La Fornace TV, sforniamo grandi, momenti di televisione.